Buongiorno weekend! Benvenuti all'appuntamento del fine settimana targato Cusano Italia TV. Che meraviglia è la 64esima puntata di Buongiorno weekend, quindi da circa la metà fine settimana insieme a voi che ci tenete compagnia ogni sabato e ogni domenica dalle 9 alle 11 rigorosamente in diretta. Potete seguire Buongiorno weekend, ma ormai lo sapete già ovviamente sul canale 122 del Digitale Terrestre, qualcuno ancora anche sul 264, ma anche ovunque voi siate attraverso il cellulare, il computer, seguendo la diretta streaming su www.cusanoitaliatv.it. Quindi non avete scuse, dovete assolutamente e potete guardare Buongiorno weekend. Da dove ci state seguendo? Scrivetecelo al numero che anche questo ormai saprete a memoria, avrete sicuramente memorizzato nel vostro telefono cellulare. 342-627-5717. Questo è il numero di telefono per interagire con la puntata, con noi, ma soprattutto con gli ospiti di Buongiorno weekend. Perché il bello di questo programma è che riusciamo a creare un'interazione grazie anche alle vostre domande, alle vostre riflessioni rispetto a quello che è il tema della puntata o il tema che porta avanti l'ospite meraviglioso che conosciamo sempre, tanti ospiti meravigliosi che conosciamo durante le puntate di Buongiorno weekend. Quali sono quelle di oggi, di questa domenica? Innanzitutto, mi raccomando, buongiorno weekend e soprattutto buona festa delle mamme a tutte le mamme, ma perdonatemi soprattutto alla mia mamma Michela. Un bacio a te, la mia mamma pasticcino, vabbè, è sempre la mamma e la mamma. Ecco, quindi auguri mamma, auguri a tutte voi mamme e adesso ne parleremo anche con la primissima ospite che sarà ovviamente lei, Giovanna Del Vino, movie player, con lei parleremo di cinema e oggi daremo in realtà anche uno spunto su che cosa regalare alle mamme e parleremo delle mamme del cinema. Poi ci sfida ovviamente a riconoscere una frase molto famosa inserita in un film altrettanto famoso, ma lo scopriremo tra pochissimo. Con lei impareremo ad utilizzare il nostro telefono e portare un pizzico di cinema nella nostra vita. Lo scopriremo tra pochissimo insieme a lei qui in studio a Buongiorno weekend. Poi ovviamente è domenica e quindi dobbiamo iniziare a parlare del pranzo della domenica. Quel momento meraviglioso che forse, non tutti, però molti riescono a vivere con le persone a cui si vuole bene, che amiamo. E quindi perché non parlarne con una chef, ma soprattutto un'esperta di marketing e comunicazione del food. Stefania Corrado, lei ha scritto diversi libri, ma soprattutto appunto la sua vita. Ha iniziato con un biscotto all'asilo nido e poi è proseguita in maniera incredibile all'interno del mondo del food. Quindi sarà per me un piacere parlare con lei di che cosa è il cibo e come è cambiato nel tempo e soprattutto come bisogna comunicare il cibo nel 2024. Ovviamente è domenica e quindi chi c'è? C'è lei, Paola Aspri, la regina della domenica. La regina degli astri con il suo podio dello zodiaco, ma anche i suoi up and down. Ovviamente commenti al vetriolo, vedremo quali sono i personaggi commentati da Paola Aspri, come sempre lei è meravigliosa ed è un piacere per me fare questo incontro e questo viaggio la domenica con Paola Aspri. Concludiamo la puntata sempre all'insegna della cultura perché Joyce Conte della Fondazione Lucifero ci parlerà di un festival importantissimo che parla di amore. Quanto mai attuale e soprattutto rivoluzionario parlare di amore nella cultura e soprattutto a Roma in un momento storico che ha bisogno di amore. Ma spesso e volentieri in realtà cerca l'odio, noi dobbiamo proporre e valorizzare l'amore in tutte le sue forme e quella di Joyce Conte della Fondazione Lucifero è quella culturale, quella artistica. Tutto questo e molto di più a Buongiorno Weekend, io vi ringrazio come sempre per i messaggi che mandate al 342 627 5717, lo dice anche Gigi da Genova, inizia lo spettacolo con Giovanna Delvino. Buongiorno Giovanna! Buongiorno Weekend! Ma che meraviglia! Sempre che ballo con questa musichetta. Soprattutto ormai Buongiorno Weekend è diventato un... Buongiorno Weekend! Io non riesco più a dire buongiorno in maniera normale, io dico direttamente Buongiorno Weekend! Hai ragione, tra pochissimo anche i nostri telespettatori inizieranno a dire Buongiorno Weekend anche per qualcosa che... Anche in settimana! Anche in settimana! Diranno Buongiorno Weekend! Perché vedranno un promo che... Ah signora mia! Ah sì sì, memorizzerete ormai Buongiorno Weekend come un'unica parola! Esatto esatto, abbiamo creato una cosa, vabbè ma che ve lo dico a fare? Non possiamo spoilerare? Giovanna ti chiedo un passo indietro! Sì sì, come sempre, io quando mai seduta per bene... Perché il buon Lorenzo Fantini che non ho ancora salutato e ringraziato e anche Simone in assistenza, il buon Lorenzo Fantini è solo solito oggi a gestire le camere, ne ha pezzata una proprio in direzione dietro la folta chioma di Giovanna e quindi è facilmente... Ecco, è facilmente oscurabile quella che ha in camera! Giovanna buongiorno! Buongiorno e posso fare una cosa guardando in camera? Certo! Auguri mamma! Ebbè, siamo cuore di mamma! Sì, non solo siamo cuore di mamma, però loro sono meravigliose perché comunque ricordiamolo è domenica e loro si svegliano presto per guardarci e per comunque supportarci e quindi auguri doppiamente grazie e grazie a tutte le mamme. Infatti, cara Martina Gatto, nonostante in genere io venendo qui, insomma considero l'idea di aiutarvi a fare dei video originali o comunque di portare il cinema nelle vostre vite mettendo in pratica dei trucchetti, oggi porto il cinema nelle vostre vite in un altro modo. Ok! Vi parlo di un po' di film inerenti alla mamma e in più comunque vi faccio scoprire una cosa bella, una cosa nuova anche e soprattutto per la giornata di oggi. Va bene, prima di tutto questo però c'è una cosa da fare. C'è la frase! C'è la frase perché ormai i nostri telespettatori sanno che quando c'è Giovanna del Vino c'è una frase e ovviamente c'è una frase, ce ne sono diverse. C'è una frase da scoprire, da cercare un pochino nella nostra memoria, non su internet, cercare a quale film appartenga questa frase, è molto celebre. In questo caso? È un po' più di nicchia, nel senso che è molto celebre a mio parere, è molto celebre il film. Dai, è celebre. No, 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 certo. È clamoroso. È meraviglioso. Però la frase è meno nota, nonostante sia una delle più belle frasi del film. Cioè a me piace molto, è impattante. È uno scambio, è un dialogo questa volta. Sì. Un personaggio dice all'altro, sono cresciuta ormai. E l'altro personaggio risponde, e allora decresci bambina. Quindi anche carina, non la utilizziamo nel quotidiano. No. Nonostante dovremmo. Questo decresci bambina mi piace molto, proprio per com'è strutturata. Sì, è un bello simoro, decresci bambina. Quando diciamo che siamo vecchi dentro, allora decresci. Dovremmo iniziare ad utilizzarla. E ovviamente è un film molto noto e nella giornata di oggi è molto importante, non dico nient'altro. E basta. Dai, oggi dovevo aiutarli, è difficile. Sì, però ci possono arrivare. Quindi la frase è, sono cresciuta ormai. E allora decresci bambina. Ok, va bene. Quindi tentate di indovinare a quale film appartiene. Non cercate su internet, mi raccomando, sforzatevi, buttatevi. Tanto è un gioco molto molto semplice. E quindi potete sbagliare in tutto, anche nella vita si può sbagliare. Figuriamoci in questo caso. Oggi parliamo anche di questo, degli errori e del poter sbagliare senza mettere in discussione l'affetto e senza mettere in discussione anche l'integrità di un individuo. E ne parliamo proprio perché, parlando di mamme, parleremo anche, veramente pochissimo, tra pochi secondi ti faccio vedere perché, ti faccio vedere perché, parleremo anche dei motivi per cui dovremmo considerare il fatto che anche se per noi sono delle supereroine, poi sono comunque esseri umani le mamme. E quindi ne parliamo tra poco. Allora Martina. Ce lo scordiamo ogni tanto che sono effettivamente... Che sono umane. Umane, umane. E i nostri genitori in generale sono umani e quindi anche loro sbagliano come sbagliamo tutti noi. E quindi oggi mi piaceva l'idea anche di parlare di questo perché tante volte, tante volte ci dimentichiamo di essere grati. E feste come questa servono poi a ricordarci di utilizzare almeno un giorno l'anno da dedicare alla gratitudine nei confronti di chi ci ama e anche di chi... Allora, di chi ci ama e noi diamo per scontato l'amore di queste persone. Quindi è vero. È vero. Mai, mai, mai dare per scontato. Di cui non ho sempre bisogno. Mai dare per scontato anche che il microfono si... Che il microfono ogni tanto anche lui si emoziona. È come le scale di Harry Potter, ogni tanto piace cambiare. Quindi Gio, oggi... Allora, oggi come... Lo sai che io mi vesto sempre a te, ma in realtà c'è anche un indizio anche del film. Eh, se ci fai caso... C'è. Eh, vabbè. C'è lì però un pochino, dai. Guarda, guarda qui. Rosa. Che cosa vedi? A parte il rosa che ormai fa parte di me. È un fumetto. Che è fatto ovviamente da una serie di vignette. Da un collage, si potrebbe dire. Ah, sì, certo. Di immagini. Questa cosa delle immagini messe una vicino all'altro può creare delle situazioni stupende. Dei bigliettini, dei poster, dei volantini. Anche solo un modo originale per creare, per esempio, se non ci avete pensato e ormai è domenica, è la festa della mamma. Non avete molte alternative. Un regalo speciale per la vostra mamma. Vediamo come. E' da tanto che volevo parlarvi di Canva, di questa applicazione, ma è anche un sito molto facile da utilizzare ed è molto molto utile per gli effetti in generale cinematografici e non. Quindi quando parliamo degli effetti, tante volte io vi dico, guardate, questo riprendendolo così non avete poi bisogno della post-produzione. E tante volte vi ho detto, però, della post-produzione. Spesso si ha necessità ed è giusto averne bisogno. Ecco, quello che vedete qui oggi è fatto dal cellulare, ma dal sito è ancora più semplice. Io però utilizzo il cellulare perché, diciamo, è la tematica di questa rubrica, utilizzare il cellulare per portare il cinema nelle vostre vite. E nonostante stiamo parlando di fotografie, quindi non stiamo portando effettivamente il cinema nelle nostre vite, probabilmente possiamo metterlo all'interno di un buono, un buono da riuscire a, insomma, realizzare per la vostra mamma. Vediamo come. Allora, aprendo Canva, ecco, questa è già la grafica, ma tra poco parliamo anche di, ecco qua, Canva. Canva da cellulare si presenta così. Come potete vedere, potete fare un sacco di cose, potete creare dei post su Instagram, delle grafiche di qualsiasi genere. Insomma, potete anche realizzare il vostro collage di foto in maniera assolutamente avulsa da qualsiasi modello dato da Canva. Noi abbiamo utilizzato la modalità volantino, in questo caso, e quindi c'è creazione di volantino, di poster, insomma. Quindi tutta pagina te la dà proprio, ti dà le dimensioni Canva di quello che realizzerai e abbiamo utilizzato semplicemente un modello che già era impostato in Canva. Penso un po', Canva aveva già, come vedi, selezionato dei modelli sapendo della festa della mamma. Quindi è veramente intuitivo, un sito utilissimo per poter realizzare qualsiasi cosa. Come potete vedere, io ho nominato questo file mamma, come potete vedere ci sono due menu. Il menu, quello sotto, è il menu, diciamo, facile, come su Word, diciamo, quello veloce, rapido. Come potete vedere potete realizzare anche un mini video e quindi ci sono le transizioni, il modo per animare anche l'immagine, per animare la scritta. Io vi ho fatto vedere, semplicemente ho scritto alla mia persona preferita e ho scritto un buon abbraccio. Poi l'ho anche modificato, vedremo la situazione finale, ecco, di questo buono speciale. E ovviamente io ho messo un buon abbraccio perché ho voluto parlare di diversi tipi di abbraccio. Mi piaceva anche questa cosa della mano che sostiene un abbraccio tra madre e figlia e mi piaceva anche l'idea di utilizzare delle foto direttamente dal mondo del cinema parlando di abbracci. Poi alla fine io questo buono l'ho realizzato dicendo valido anche per un film da vedere insieme perché io spero che in qualche modo, se non avete pensato a qualcosa di speciale per le vostre mamme, possiate avere anche solo questa idea, questa deduzione di passare un po' di tempo insieme a loro guardando uno dei film, uno dei tre film di cui vi parlerò per insomma parlare dell'amore materno. Allora questo qui è il buono abbraccio da film per te, nel senso che è valido per un buon abbraccio e anche per un film insieme. Qui ce ne sono due di immagini, voi ovviamente, mia madre non sarebbe stata contenta perché mia madre figurati se vuole apparire in televisione minimamente, però voi potete caricare addirittura nel tutorial, ora lo vediamo insieme, potete caricare tutte le foto che volete. Io ci ho messo delle foto di abbracci dal film ma voi potete caricare le foto di vostra madre, potete realizzare semplicemente un bellissimo modo, un bellissimo collage di foto, un modo per presentare una serie di ricordi meravigliosi a vostra madre e stamparli, anche perché alle nostre mamme piace un sacco il cartaceo, ma è appendere, fare, proprio... È vero, la richiesta, una delle richieste più frequenti è mi stampi quella foto? Puoi comprare tutte le cornice digitali che vuoi, loro vorranno la foto stampata. Hanno ragione, hanno ragione, hanno ragione da vendere. Quindi abbiamo capito come è un'applicazione gratuita, poi ovviamente ha delle funzioni premium, se per sbaglio voleste provarle, però la versione gratis effettivamente fa fare tantissime cose. Esatto, dopo se vuoi la rivediamo insieme, ora che abbiamo già parlato delle opzioni, e ti faccio vedere invece il menu da dove appunto caricare le fotografie. Chiediamo a Lorenzo di arrivare in quel punto, in modo tale da... Possiamo pure rivedere... Realmente potete fare moltissime cose, è intuitivo, basta un po' spulciare, controllare un po' la schermata, e anche provare a testarla, quindi provate diversi effetti, sperimentate, divertitevi... Potete fare quanti progetti volete, questo è importante da dire, realizzerete tutto quello che vorrete e non vi metterà mai un limite. Esatto, vi aiuta in molto... è molto facile, intuitivo e aiuta perché ha già dei layout appunto, già reimpostati, però dei modelli, però come in questo caso sono modificabili a nostro vantaggio, quindi secondo la nostra creatività. Quindi adesso arriviamo al momento in cui vediamo caricare le nostre foto, e Giovanna giustamente come diceva hai scelto dei film. Esatto, nonostante sarebbe stato bello scegliere dei film, però volevo assoluta attinenza. Ed è un buon abbraccio per te, anche scrivere è molto facile. Volevo troppa attinenza con La giornata della mamma, perché altrimenti avrei scelto dei film a tema, per esempio tutti quelli Marvel, spesso hanno proprio questo effetto del fumetto, quindi in qualche modo parlo comunque di cinema che entra nelle nostre vite e anche nella modalità di resa. Però no, ho scelto tre film proprio sulle mamme e ho caricato delle immagini, alcune poi le ho anche cancellate perché ne ho volute mettere solo due sotto per farvi vedere che potete tenere sia l'animazione, sia un'immagine, sia la scritta, sia le immagini caricate. Quindi ecco, molto facile, come potete vedere carica immagine e si carica. C'è un più di solito. C'è un più, c'è un più dal menu, si vede insomma, si vede anche che io carico le immagini dei film. In portafile. In portafile. In portafile. C'è anche, come vedi, c'è ancora domani. C'è anche dei calamari, cosa sono? Quelli sono dei calamari di famiglia, ho proprio scelto di mettere quella come foto. Quando ho visto che registrava, ho detto ok, io metto una bella foto, quella mi è stata immaginata al mio padre, ho detto ora ce la metto così si parla di famiglia, come ultima foto prima di... Molto molto bello. E quindi ci tenevo a fare questa citazione pugliese. Invece di un baccalà e i calamari. Esatto. Ok, hai parlato, hai inserito giustamente delle foto particolari, spiegaci anche un pochino perché. Allora, ve le spiego perché vorrei anche fare in modo, cioè attraverso questo mezzo, parlare anche delle mamme. Questa qui che vediamo è Paola Cortellesi, pluripremiata quest'anno con C'è ancora domani, film dell'anno, Ai nastri d'argento e poi un sacco di David. Ha vinto sei David, ma è stata candidata a veramente, cioè il film, il film è stato candidato a molti, molti premi e c'è ancora domani un film meraviglioso, non soltanto su un pezzo di storia dell'Italia, ma soprattutto sulle donne e sull'amore materno. Perché il personaggio arriva a fare determinate cose, determinate scelte, soltanto grazie alla voglia, alla estrema voglia di migliorare la vita della figlia. E in questo film regalare la possibilità alla figlia di avere una vita migliore si presenta nel momento in cui non vuole un personaggio femminile, che in questo caso appunto è la madre, Paola Cortellesi, non vuole che la figlia faccia praticamente la sua stessa fine. E qua già c'è il riassunto di un amore materno così responsabile e così puro, vero, che anche se non riesce a dimostrarsi, perché loro non hanno un rapporto reale di dialogo, di comunicazione, ma l'amore è così forte che nonostante anche una forte ignoranza, perché poverina è andata a poca scuola, insomma c'è tutta una storia, io ve lo consiglio proprio come film in generale, c'è un profondo amore che le permette di essere intelligente, ferma, strategica e soprattutto molto amorevole nei confronti di sua figlia. Quindi ho pensato che questo potesse essere il primo film da consigliarvi come visione a casa con le vostre mamme, perché certe volte anche quando non si comunica tanto in casa o non sapete quelli che sono i sacrifici che fanno le mamme, che fa nello specifico la vostra mamma, poi in realtà c'è una storia dietro, c'è una protezione, c'è un amore che certe volte diamo per scontato. E quindi questo film lo dimostra proprio chiaramente. C'è un altro film in cui c'è dell'amore che protegge il nostro protagonista e lo protegge così tanto da diventare una vera e propria protezione magica e ho voluto prendere anche questo film, ho preso l'abbraccio finale, quello di un Harry e quindi del protagonista maschile che poi è cresciuto e è riuscito a farsi una famiglia e quindi a diventare papà e dall'altra parte infatti c'è la mamma dei suoi figli che quindi è Ginny. Perché? Perché la storia di Harry Potter, voi direte sì, ma è una storia magica, è basata sulla magia, il racconto è un altro tipo di racconto, cioè un racconto magico. Sì, ok, ma Harry Potter è riuscito a diventare Harry Potter perché c'è questo enorme amore di sua madre che lo protegge dall'incantesimo peggiore di tutti, quello di Voldemort che poi è la vada che dà, perché è l'incantesimo che porta alla morte. Tutta la storia di Harry Potter è basata sull'amore di sua madre che lui non ha nemmeno mai davvero conosciuto, cioè ha dei ricordi veramente minimi di sua madre, per lo più ricorda questo urlo che continua poi a tornare all'interno dei film e quindi all'interno della saga. Quindi mi piaceva parlare anche di una madre che senza esserci, non per sua scelta, è una madre che ha regalato la possibilità a suo figlio di vivere, di sopravvivere, di avere addirittura una magia in sé e di riuscire ad andare avanti amato, tanto da poter poi creare lui stesso una famiglia, nonostante la presenza fisica non ci sia. Quindi ho pensato anche a questa tipologia di situazione che purtroppo esiste nelle famiglie per ricordarci che comunque l'amore dei nostri genitori c'è e ci porta a diventare le persone che siamo a sentirci amati e protetti anche quando il rapporto per motivi diversi non c'è effettivamente. E quindi ho voluto parlare anche di Harry Potter, anche perché quando mai io non parlo di Harry Potter, cioè quando posso noi lo mettiamo. Soprattutto quando è così importante parlarne, quindi giustissimo. E poi c'è un film che fa molto ridere, che è un film cult degli anni 90, che è adorabile e di cui noi amiamo praticamente ogni scena. Credo che tutte le persone che io conosco degli anni 90 lo conoscano a memoria, sono abbastanza sicura, o comunque qualche scena a memoria c'è. Certo. Si chiama Mammo perso l'aereo ed è un film in cui la mamma di questo bambino si dimentica, è una commedia ovviamente, ne abbiamo anche già parlato, si dimentica di suo figlio durante le feste di Natale. Ora, non è una cattiva madre, si sente per tutto il film una cattiva madre. Il motivo per cui ciò accade è ovviamente un escamotage narrativo ed è comunque portato al limite, nel senso che comunque è difficile che una madre si dimentichi di suo figlio. Qui è un film e quindi c'è anche della frizione. Però ne ho voluto approfittare uno per poter ridere anche un po' insieme, perché se avete questo tipo di rapporto con vostra madre o comunque preferite farvi una bella risata davanti a un bellissimo film, io vi consiglio Mammo perso l'aereo. E poi è un buon modo per riuscire a trattare con ironia e con dolcezza e con leggerezza anche l'errore umano e in questo caso l'errore di una madre. Perché anche le nostre mamme fanno degli errori. Certe volte, certe volte, quasi sempre non lo fanno apposta e come in questo film, qui ovviamente portato all'estremo, lo ripetiamo, però tante piccole cose che possono essere delle incomprensioni o possono essere motivo di lite o possono essere anche cose che non capiamo adesso ma hanno il loro senso o cose anche legate all'educazione che hanno ricevuto. Certe volte noi non le capiamo, certe volte portano alla lite, certe volte portano al distacco, ma ricordiamoci sempre che non sono volontarie e sono anche delle situazioni che ci aiutano a crescere e che aiutano a crescere anche loro. Cioè l'errore anche della mamma che è umana e che quindi compie degli errori come noi tutti è una condizione che dobbiamo sicuramente metabolizzare e con cui dobbiamo fare pace. Ora io ho messo anche un abbraccio di mamma ho perso l'aereo che è un abbraccio con un'altra mamma, è la signora dei piccioni questa qui ed è nel secondo episodio di mamma ho perso l'aereo, è una mamma che il bambino aiuta, quindi lui consigliando, parlando del rapporto con la sua di mamma riesce a far riavvicinare quest'altra mamma alla sua famiglia che invece si sente sbagliata e si è allontanata perché non riusciva più a sentire vicinanza con la sua famiglia sentendo il senso di colpa dell'errore. Quindi c'è un lato e l'altro lato è esplicato nei due film, nel primo e nel sequel in maniera eccelsa perché effettivamente non ci rendiamo conto quando facciamo notare un errore che magari l'altra persona comunque anche una madre si sta ragionando e sta cercando di capire come fare per affrontarlo e per andare oltre. Poi ovviamente Martina sulle mamme ce ne sono tantissimi di film, anche Forrest Gump l'abbiamo detto, mamma diceva sempre la vita è una scatola e potremmo continuare per ore e ore e ore, però in effetti dei simboli, esatto, dei simboli assolutamente da, e sono dei preziosissimi consigli, quindi se riuscite, se potete, fatelo con tutto il cuore, dedicate del tempo alle vostre mamme e seguite i consigli di Giovanna sia sul film che anche su questa cartolina un abbraccio, basta anche poco, un abbraccio, un film insieme è veramente un regalo prezioso che possiamo dare alle nostre mamme e ancora auguri a tutte le mamme, anche quelle vicine e anche quelle lontane. Anche chi festeggerà non oggi, la mamma è sempre da festeggiare, tipo io che festeggerò tra un mese. Esatto, la mamma è sempre la mamma, ti ringrazio anche Gigi che fa gli auguri anche alla sua mamma ovviamente e anche Ottavio da Genova che dice auguri a tutte le mamme, complimenti a Giovanna Delvino, ciao Martina, buon weekend a te, grazie a tutti voi. Allora, intanto ricordiamo la frase sono cresciuta ormai e allora decresci bambina, quindi indovinate, cercate di indovinare a quale film appartiene e adesso andiamo in pubblicità, parliamo tra pochissimo di cibo, ne colgo l'occasione oltre per continuare a fare gli auguri a tutte le mamme ma anche a fare gli auguri a Gio di Sarno che oggi è il suo compleanno, ieri ha festeggiato in anticipo un meraviglioso pomeriggio, di sabato pomeriggio e quindi facciamo tanti auguri a Gio, ciao e grazie Giovanna, ci vediamo tra pochissimo. Per lo svelamento. Esatto, wow, wow, qualche minuto di pubblicità, torna subito, buongiorno weekend. Grazie a tutti.